grande confusione sotto il cielo la situazione è eccellente Michele riconosci di chi è questa situazione di questa citazione questa situazione anche ovviamente ancora un grande timoniere ti ho godito no la rifacciamo abbiamo dovuto rifarla ma scusami ma scusami ma scusami Michele sono tre anni che io sopporto i tuoi problemi tecnici e una volta che capita a me sono tre anni che facciamo video io e te sono tre anni quasi marzo 2018 sono due anni e mezzo oh yes caro mio è così cominciamo a allora ascoltami ma che casino c'è in mezzo a tutto questo discorso tu fermi e fai invecchiare no 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 non invecchi stai ringiovanendo grazie al Duffere Boldrin stai ringiovanendo ho sentito una protesta dall'altra stanza che ha detto ma volete andare avanti stavolta? sì sì è vero dobbiamo andare avanti no di cosa che vogliamo parlare? beh di questa situazione con il giornalismo italiano e quello che è successo con Feltri Junior è interessante vero perché mischia una quantità di cose controverse su cui credo che eh non so dimmi tu dimmi tu perché sì sì no sì io credo non mi piace no ma dimmi cosa ne pensi perché io sulla vicenda ho cioè ho l'idea che mi sembra che tutti quanti abbiano una paura immane dei danni collaterali ce l'ha il Feltri Junior ce l'ha il Feltri Senior ce l'ha anche la Boldrini e l'Ordine dei giornalisti mi sembra che siano tutti in uno stallo alla messicana hai presente quando tutti sono si puntano alla pistola contro ma nessuno ha il coraggio di sparare per primo perché in fin dei conti hanno paura che il primo a sparare sia anche il primo a cadere e quindi quindi sono tutti lì e sta succedendo un casino incredibile cioè è veramente uno stallo alla messicana sì ah ma continua ecco perché io l'ho notato mi è venuto molto da ridere perché mi sono detto guarda è una di queste classiche cose che uno in un paese normale non gliene frega un cazzo a nessuno non lo noti nemmeno ok punto numero due c'è dentro una varietà di robe tutte specificatamente italiane sulle quali non è che puoi far scienza cioè non è che come dire adesso facciamo un'analisi ingegneristica del ponte no sono tratti culturali proprio antropologici tribali nostri ma divertentissimi quindi non è il caso di prendere il lato dell'uno dell'altro o dell'altro o dell'altro ancora poi si sono messi in 18 a questo punto però sono tutti rivelatrici perché c'è il famillismo guai a chi tocca a me papà esatto c'è anche la dimensione umana voglio bene a mio papà anche se francamente mi dispiace Vittorio Veltri non è proprio il mio eroe neanche il modello di essere umano intellettualmente è un po' un cialtrone di bassissima qualità è uno che ha capito come è uno è uno che gli vuole bene al suo papà vabbè che è la famosa storia che non lo decidi razionalmente ne te lo scegli e dici vabbè io sul mio giornale c'è quell'altra che cerca la polemica e poi c'è la follia che l'ordine dei giornalisti con una specie di di cos'è di lessico questo qualche progresso mi denuncerà non sa scrivere in italiano cioè sono rimasto di sasso leggendo leggendo con un testo improbabile visto il lavoro che dovrebbe fare mamma mia si mette in mezzo a giudicare cosa? Cazzi del tutto privati irrilevanti e quindi antropologicamente c'è tutto perché se ci pensi è una baruffetta fra tre che si conoscono ciavoli loro io te e scegli tu chi vuoi uno dei tuoi ospiti quando mi sei sposato ci conosciamo un giorno litighiamo su non so Michele ha detto una stronzata a Rick Rick saranno bene affari nostri no no certo certo e poi questo diventa di dominio pubblico peraltro e diventa una battaglia diventano battaglie politiche che in realtà non dovrebbero essere battaglie politiche cioè io si si transformano in una questione politica e poi non si capisce dove sia la questione politica perché se qualcuno me la spiega l'incapacità da un lato di uno di capire che se fai onestamente io l'avevo così il Feltri Junior di cui ho anche un certo rispetto spesso però scrive delle cose mediamente interessanti ogni tanto ogni tanto la imbrocca insomma dai io anche ecco posso dirlo pubblicamente gli ho anche offerto delle volte di scrivere sul suo giornale se ha voglia poi dopo forse non gli interessa ma non importa non è così importante scrivere un'altra se ha voglia scrive un'altra parte comunque mi sembra uno sveglio ecco con un minimo di cultura decente c'ha sta debolezza non ho capito bene perché perché se fai quel lavoro lì onestamente devi anche accettare che tuo padre essendo uno così estremamente controverso te lo criticano certo cioè il problema però anche è vero che nella misura in cui sei direttore di un giornale hai il diritto di farlo io lo sono ancora direttore nel senso faccio l'editor di un giornale scientifico l'ho fatto di tanti altri più famosi adesso lo faccio da un'università di Venezia quasi pro bono perché è la mia università e io faccio desk rejection di papers nel senso che questi mandano l'articolo scientifico io lo guardo dico è una cagata e non lo mando neanche a referire decido io perché fa parte della mia prerogativa di dire guarda no mi dispiace magari mi sbaglio magari mi sbaglio però a me sembra un articolo irrelevante non vale la pena di perdere ore di altre persone per decidere se lui credo abbia il diritto di farlo sul suo giornale certo beh certo che c'è l'iritto sai a me ha fatto ha fatto pensare veramente proprio questo fatto che si vuole trasformare in ogni modo delle vicende che in realtà dovrebbero interessare soltanto al rione al vicinato e neanche tanto che diventano questioni politiche ma siamo noi questo è proprio italiano molto italiano non è che non succede in assoluto nel resto del mondo succede delle volte da noi succede con una frequenza pazzesca sì sì assolutamente assolutamente e questo poi ti fa capire anche perché c'è quell'aspetto lì che ormai il giornalismo italiano è sempre più vicino al fotoromanzo è sempre più vicino all'armoni fatto di gossip e ovviamente questo va a ripercuotersi nelle vicende anche legate al covid dove bisognerebbe far dominare un discorso razionale basato sui dati i numeri e invece no poi si leggono parole tipo strage e catombe parole che fanno parte della letteratura fantasy e non certo di un discorso razionale che permetta alla gente di informarsi io su questo sono aperto suggerimenti perché in Italia per esempio centinaia ormai di giornalisti sono diventati i moderni filosofi opinion makers pensatori hanno questi giganteschi ruoli sono famosi cioè se guardo negli Stati che è un paese molto più grande che dipende molto di più se vuoi dal giornalismo c'è un settore di informazione più rigoglioso più ampio decisamente però di giornalisti che abbiano questo status di guru ce ne sono pochissimi è vero anzi direi nessuno in realtà che viene visto come sì vabbè cioè quelli che fanno i talk show ironici alla sera sono quelli famosi c'era Johnny Carson c'era David Letterman c'è Jay Leno e così via ma appunto perché sono comici ma non c'è uno che faccia i rampini ma guarda la sinistra la sinistra americana non si è scelta uno ridicolo come rampini che 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 plagia gli articoli altrui come maître a pensée perché giustamente grazie a Dio si cercano qualcos'altro c'è questo strano perché io non riesco mica a capirlo la debolezza dell'accademia italiana no secondo me guarda se io vado a guardare c'è un problema ed è quello probabilmente del modo con cui si è sviluppata la televisione cioè questi guru giornalisti secondo me sono legati al fatto che a metà anni 90 quando ha cominciato a prendere piede il discorso talk show e via dicendo se tu vai a guardare giornalisti erano molto invitati cosa che non avviene negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti nei talk show ormai ci sono solo i giornalisti i giornalisti sono quelli che raccontano tutto in Italia sono la fonte di tutto esatto esatto e questa cosa deriva dal fatto che la televisione ha avuto quell'atteggiamento lì forse perché non lo so forse per il sistema editoriale perché in fin dei conti tanto per esempio Mediaset ok Mediaset aveva come editore lo stesso tanto per alcuni giornali quanto per la televisione e quindi questo connubio qua ha portato per esempio a far sì che alcuni giornalisti diventassero poi dei guru e anche la Rai ha imitato questa cosa perché con Bruno Vespa chi è che c'era prima di Vespa com'è che si chiamava orca misura sì sì no tantissimi penso a formiglie una specie di di tutti i sinistronzi italiani paragone cioè anche paragone paragone lo era pensa paragone cioè uno fondamentalmente a Paolo Barnard ma pensa soldato a Paolo Barnard il cosciente di intelligenza di questi è paragonabile a quello del mio Labrador e invece poi la cultura a quella di uno uscito dalle foreste e invece poi hanno fatto hanno avuto questa 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 spinta che è stata televisiva cioè Barnard è diventato famoso grazie a Report e non nel momento in cui era autore di Report ma nel momento in cui è stato invitato poi nei vari talk show e via dicendo e questo status di star di grandi pensatori poi trasforma piccole scemenze come questo in una specie di caso nazionale simbolico perché ovviamente e d'altra parte e ti ripeto adesso va detto cioè la Boldrini da un lato in quell'articolo era sensato dall'altro ha astuta lei pure un prodotto di questo mondo qua certo e francamente la signora avrà anche svuoto il ruolo che le hanno dato ma come leader politico fa ridere i pollastri l'avete mai sentita uscirsene con una proposta che non sia semplicemente il proclama il proclama così da santone che il mondo dovrebbe essere santo e bello come vuole lei ha mai proposto una roba da fare che serva a qualcosa se ci pensi la grande fama della Boldrini nasce a causa della violenza verbale che alcuni hanno utilizzato nei suoi confronti cioè nel senso il suo significato politico è un significato da questo punto di vista molto simbolico perché lei simboleggia nel dibattito pubblico la violenza del mondo del patriarcato del maschilismo nei confronti della donna e via dicendo è vero anche quello per esempio certo ma va detto c'è l'altra faccia di questa cosa ovviamente in Italia c'è io lo trovo cioè noi abbiamo con questa cosa della battuta tu lo sai che io ho la fissazione io nego di scherzare pubblicamente su alcuni temi seri credo sia dannoso e con la storia della battuta una certa destra troglodita italiana manifesta in realtà quello che pensa le donne va detto cioè io su questo proprio va detto sì sì certo ma che ci sia macismo e violenza e prevaricazione non c'è alcun dubbio e voglio dire Vittorio Feltri è proprio uno di quelli che ha fatto della prevaricazione l'articolo l'articolo sul caso genovese è pezzo di sterco cioè quell'articolo è veramente pezzo di sterco per quello che è stato detto o per come è stato detto il modo con cui quella cosa viene capitalizzata che per me veramente doveva essere un questo è meglio che si ritiri perché veramente ne ho città con la testa è stato capitalizzato in due sensi da un lato si prende il delirio di Feltri un delirio di un po' onnipotenza un po' senilità precoce e lo si schiaffa in prima pagina come se fosse invece la tendenza di un intero popolo perché questo è stato cercato di fare vedete Feltri dice così perché l'Italia è così puttanata non è vero ci sono ambienti che sono così ma non è tutta l'Italia che è così di nuovo si fa letteratura dove si dovrebbe fare il ragionamento e dall'altro lato un caso appunto in cui Feltri Junior forse boh per che ne so per paura di scontentare per sacro timone non so neanche neanche io perché lui si sia cacciato in questa cosa adesso non so se ti ascolta non ci siamo mai incontrati personalmente ci hanno scambiato dei messaggi non lo capisco lo rispetto per carità i sentimenti personali io non sono di gestire come vuoi e quindi la ragione per cui a mio avviso va protetto e quello che è stato detto sono tutte stronzate poi visto che mi ha dato un caso pubblico devo rifletterci faccio fatica a capire perché decidi di esporti così certo invece sulla cosa ecco lasciami dire delle donne no? sì sì è in realtà molto diffuso cos'era un mese mese e mezzo fa Gerardo Favaretto e credo ci fosse Elsa adesso non mi ricordo mi ricordo che c'era Gerardo hanno fatto credo ci fosse Elsa qualcun altro le mie solite amnesie su Liberi Oltre hanno fatto un pezzo sulla violenza femminile sulle donne la violenza domestica e il suo crescere a causa di lockdown forzata chiusura sicuramente per le persone meno ambienti per le persone più povere in ambienti ristretti troppo affollati eccetera eccetera beh tu avresti dovuto vedere a me è un po' impressionato perché fra la stessa gente che segue Liberi Oltre che comunque attraverso una quantità di questi non parlate della violenza sui maschi ora anche questa dimensione in Italia mi sembra ridicola perché ovviamente esistono entrambi i tipi di violenza però non c'è dubbio alcuno che la rilevanza quantitativa dell'una faccia in palli dire quella dell'altra bisogna essere in mala fede malati al cervello per insistere che siano quantitativamente comparabili sia storicamente ma anche oggi e dopo di che se davvero vuoi affrontare come credo sia il caso aspetti della giurisprudenza della legislazione italiana del comportamento sociale che creano una violenza spesso di tipo psicologico sui maschi devi riuscire a farlo accettando il fatto che è di un ordine di grandezza di severità quello che a me impressionava nell'arrivo di alcune ventina di commentatori era che la reazione era tutte cazzate perché non parlate della violenza sugli uomini anche questo aspetto è tutto italiano la tribù la tribù perché perché la tribù perché è l'effetto inevitabile di quando si politicizzano cose che in realtà non dovrebbero essere trattate politicamente cioè nel senso per esempio la questione della violenza sulla donna è una questione dal mio punto di vista estremamente giuridica cioè il problema vero il problema vero è legato al fatto che nell'ambito dell'amministrazione delle pene e della chiarezza delle leggi molto spesso si fa pecca solo che il problema è che questo tema viene tolto dalle mani molto spesso pubblicamente da giuristi e da psicologi e viene dato in pasto poi invece a chi ne fa un uso politico e quando tu fai un uso politico di questi temi è inevitabile che tu crei tribù e quindi perché? perché l'uso politico crea cioè si basa solo sulla percezione allora perché di fronte a un discorso sulla violenza sulla donna emergono sempre quelli che dicono eh ma anche l'uomo perché è la stessa cosa di dire l'olocausto è malefoibe cioè è lo stesso tipo di atteggiamento perché viene politicizzata una cosa che in realtà non dovrebbe avere un connotato di tipo politico se non marginalmente tu vai a giocare solo sulla percezione tu dai alle persone la ragione giusta per non doversi mettere nei panni degli altri questo è un po' il discorso tutti i discorsi per esempio dei diritti maschili queste cose qua io credo siano discorsi che possono essere fatti assolutamente ci sono delle fallacce giuridiche in cui bisogna assolutamente intervenire per migliorare e per arrivare alla parità anche in quei casi mi vengono in mente casi fra l'affidamento e via dicendo che ci sono degli squilibri enormi però un discorso basato sui fatti e sui dati è quel tipo di problematica è molto molto meno diffusa rispetto alla problematica antagonista diciamo se discutesse sui fatti e sui dati tra l'altro questo vai vedi poi caratteristiche tutte italiane circa due anni fa la Cassazione italiana per esempio sì ed è strano che sono ah in realtà ha fatto violenza alle donne inventandosi nel caso nella risoluzione del caso di divorzio del mio vecchio amico Vittorio Grilli che nel suo caso specifico a mio avviso aveva una richiesta legittima non perché amico mio ma proprio secondo me aveva una richiesta legittima però se voi ne parliamo un'altra volta anzi forse dovresti visto il pubblico sarebbe interessante ha di fatto cambiato mezzo secolo di giurisprudenza in caso di divorzio decidendo di colpo che il vecchio criterio secondo cui la parte in caso di divorzio la parte economicamente più debole ha diritto a richiedere di essere mantenuta nelle condizioni di vita esistenti in condizioni di matrimonio se l'altra parte può permettersi non vale più e cioè che la parte più debole se è in grado in qualche maniera di lavorare si arrangia questa cosa molti diranno ah beh giusto no era una violenza sugli uomini fino a un certo punto perché conoscendo le strutture delle coppie italiane anche recenti ben più giovani di me il meccanismo di sottile imposizione familiare alla signora madre e moglie di fare la madre c'è un bell'articolo di Elsa Fornero di alcuni giorni fa che ho notato su questo e che quindi la costringe a fare la madre e moglie apparentemente perché le piace e che di fatto rinuncia a carriera autonomia economica per poi vent'anni dopo magari perché ne ha 45 in salute per carità un diploma una laurea però è fuori al mercato del lavoro di fatto da vent'anni si sente dire dal signor giudice signora lei è sana Sarangi la sto come dire riassumendo in maniera brutale perché me l'hai fatta venire in mente facendo riferimento alla necessità di discutere su c'è necessità di discuterne però questo atto di violenza è passato abbastanza inosservato guarda io lo ritengo sia un grande atto di violenza a tantissime donne italiane che hanno rinunciato a carriere in goodwill e poi si sono trovate all'atto del divorzio sentirsi dire a 40 anni a 50 a 46 beh guarda insomma lei è sana c'è anche una laurea è vero non l'ha mai usata c'è mai fatto niente perché ha allevato i ragazzini però si trova un lavoro che non è facile a 43 anni sei fuori dal mercato lavoro da 20 a trovarti sopra un lavoro certo questo giochetto mi ha fatto venire in mente una cosa perché su questo sono d'accordo però di nuovo queste sono cose che andrebbero discusse in modo molto tecnico e quando vanno messe in pasta la politica diventano slogan mi viene in mente l'anno scorso infatti sono d'accordo qualche mese fa ho fatto una diretta su Instagram con Checcaflò che tu conosci perché l'abbiamo invitata alla prima maratona ed era un discorso legato alla giurisprudenza perché era uscito un articolo in cui si diceva che in Italia c'è cultura dello stupro della violenza in questa diretta noi abbiamo argomentato dicendo guarda c'è una cultura di svalutazione della donna di sessismo e via dicendo però perché ci sia cultura dello stupro significa che tutte le manifestazioni culturali di un ambiente vanno a promuovere quel tipo di cultura se tu vai a guardare non è così perché il diritto sotto molteplici aspetti ha avuto un'evoluzione enorme oggi non puoi dire che c'è cultura dello stupro puoi dirmi che in alcuni ambienti c'è maschilismo c'è sessismo e via dicendo però ogni volta in cui accade qualcosa che appunto va a impattare con la violenza sulla donna la stragrande maggioranza della società maschile femminile e di tutto il mondo si scaglia contro e la giurisprudenza comunque va a intervenire con sanzioni molto severe in quell'ambito che poi a volte non vengono applicate come si dovrebbe ma è un altro discorso quello siamo stati subissati da una serie di insulti improperi perché in realtà allora se tu dici una cosa del genere che ripeto per me era molto ragionevole e ben argomentata allora significa che sei un patriarcalista un misogine e via dicendo e questo è il risultato della politicizzazione di temi che non dovrebbero essere politicizzati perché ribadisco quella lì è una questione giuridica è una questione che ha a che fare con il diritto e ha a che fare con altri aspetti ma nel momento in cui ed è quello che la vicenda mi ha interessato molto nel momento in cui Feltri scrive quella caccata in mane e in cui l'opinione pubblica quasi universalmente si è scagliata contro quella caccata in mane io ho letto anche opinioni di gente che a Feltri dà quasi sempre ragione dicendo ah Vittor ma che te sei bevuto il cervello quindi universalmente è stata condannata venire fuori opinioni da invece ambienti di sinistra che dicevano ecco vedete questa è la prova che esiste e cultura del sessismo e cultura dello stupro e una serie di slogan che producono come effetto collaterale due cose uno che diventa impossibile parlare seriamente di questi temi due che portano poi agli MRA quindi ai male right activist e tutti quelli che invece adottano l'atteggiamento massimalista dell'altra parte quindi quelli che dicono eh no guarda che l'uomo è tanto vittima quanto la donna facendo un discorso altrettanto ideologico e questa è la confusione incredibile e secondo me ripeto per quello ho iniziato la puntata dicendo mi sembra uno stallo messicano perché mi sembra che nell'ambito di questa cosa che doveva essere una gossipata familiare è veramente una roba da riderci su e dire c'è il vecchietto che non ci sta con la testa il padre a cui fa un po' pena lasciamoli lì e si è sviluppato questo stallo alla messicana in cui ci sono dei temi molto delicati in mezzo perché ripeto in mezzo c'è il caso genovese con la violenza sulle donne con la prostituzione e via dicendo e in mezzo c'è l'indipendenza giornalistica il familismo e via dicendo e sono tutti lì con la paura immane di fare un passo e questo ha portato a questa osservazione un sacco di gente dopo ti do la parola un sacco di gente voglio saperti una domanda secondo te che paura hanno di fare un passo cioè che passo hanno paura di fare è la paura di dire quello che pensano effettivamente su questi temi e di venire subissati da shitstorm incredibili perché è quello che succede perché tu quando tratti questi temi anche seriamente vieni massacrato non c'è nulla a fare non ne esci perché vengono trattati in questo modo l'impossibilità di trattare seriamente questi temi nell'opinione pubblica è dato dal fatto che tutti quanti hanno paura che dicendo quello che pensa e dici che verremo massacrati tanto per capire con questo video hai voglia hai voglia ma tu prima hai usato la parola dislessico domani arriva sicuramente qualcuno dice ma guarda che i dislessici non sono mica come feltri che è ovvio che è così nessuno ha detto che è così no come feltri scusami come il capo dell'ordine dei giornalisti com'è che si chiama mi ricordo il levante ho letto quello che ha scritto una roba del genere lui che cazzo c'entrava tra l'altro peraltro eh ma perché c'è stato l'esposto della Boldrini che ha detto eh ma vedete non mi lasciano spazi e via dicendo quindi lui è stato allora Boldrini non lasciano spazi ecco appunto adesso capiamoci sì cioè diventa tutto Boldrini non lasciano spazi diventa tutto diventa tutto iper ideologizzato e non si capisce più dove stanno i problemi e si perde l'occasione di discutere invece di cose perché la cosa peggiore di questo fatto è che si è spostato il focus non si è più parlato del caso genovese e di quello che c'è succede continuamente succede continuamente questa cosa qua sono letteralmente armi di distrazione che non ci permettono di parlare poi dei temi di cui bisognerebbe parlare però ripeto con i fatti e con le conoscenze ed è disastrosa questa cosa disastrosa sì è tutto molto siamo un paese che ama estremamente l'ospedale gliel'ho proposto Adriano se vogliamo magari ne parliamo io comincio a convincermi che nonostante a mio avviso abbia sempre scritto una valanga di banalità perché sono filosoficamente delle banalità quello con il cognome che so che a te piace che io non riesco a pronunciare io vedi c'ho una dislessia col cognome il filosofo Karl Schur critica della ragioncinica critica della ragioncinica aspetta un attimo com'è che si chiama non mi ricordo Peter Stoller Dec è solo che io sono proprio dislessico e non mi ricordo la sequenza di consonanti io non ho il mica letto lui ti sbaglio L'ho per Dec ok il mio cervello che fa sempre casino con i cognomi mi credo ti interessasse forse in qualche conversazione tanto tempo fa l'hai menzionato può essere però in realtà in realtà no allora è uno di grande successo come saprai grande lettura eccetera assolutamente grafomane i concetti che ha da dire si potrebbe esprimere 37 pagine credo che ne abbia scritte 37.000 ok però il suo punto sul dominio del cinismo sia nelle elite che nelle masse a mio avviso si applica stupendamente alla nostra cultura e qui ho una riflessione mi ci provo mi ci butto lasciamela fare che ha molto a che fare col fatto che davvero siamo la cultura più vecchia del mondo noi lo siamo davvero non perché siamo nati prima notoriamente le culture i sistemi linguistici eccetera sono nati prima da qualche altra parte del mondo come sappiamo e sono arrivate nella penisola italiana solo molto dopo forse non più di 3.000 anni fa però obiettivamente si sono portate dentro tutto e poi la quantità di culture e dominazioni avvenimenti che hanno attraversato la penisola non ha pari a mio avviso nella storia del mondo la civiltà cinese ha 4.000 rotti anni però è molto statica è stata alla fine invasa due volte una volta per scherzo è durato pochissimo in verità hanno fatto una strage giapponesima è durato pochissimo prima gli occidentali solo in piccole parti quindi non è che fosse Francia o Spagna basta che se magna noi la penisola italica perché dire noi qua è un casino è stata siccome questo ha costruito nel popolo italico una cosa che è molto presente in certa letteratura e c'è un livello di cinismo totale nei confronti della realtà dei sistemi di valori dell'organizzazione sociale per cui alla fine è tutto spettacolo quindi anche le cose appunto più serie come potrebbe essere quella della violenza sulle donne ok alla fine sono interessanti solo se diventa un oggetto di spettacolo di baruffa di commedia dell'arte perché alla fine e qui si ricollega questa mia istintiva io ho sempre avuto una antipatia istintiva al risolvere le discussioni su questioni serie facendo battute cioè ce l'avevo quando avevo vent'anni prima di andare all'estero era istintiva non so da cosa mi venga forse da un'educazione che più che cattolica era puritana alla fine non lo so francamente non lo so me lo sono chiesto tante volte ma non però so che ce l'ho e su questo noi siamo di un grandissimo cinismo che è la ragione per cui è impossibile cambiare il paese il paese ha una sua dinamica e va nella sua dinamica e ogni momento di azione collettiva un momento di azione collettiva richiede un'assunzione da parte di milioni di individui di responsabilità collettiva a livello individuale occorre un momento se vuoi anticilico l'azione collettiva nasce da un momento di ideologico in parte del tutto fantastico sul serio esattamente qui dici io mi prendo sul serio io ho la responsabilità del destino del mio paese esiste una roba chiamata paese popolo collettività storia valori repubblicani monarchici fai tu non importa no valori e io ce li ho sulle spalle sì sì questo sono molto d'accordo è cruciale mentre parlavi a me è venuta in mente un'altra cosa io ho avuto un ospite ieri che è un fumettista che è Giuliano Piccinino abbiamo fatto una cogitata di due ore è stata molto divertente e a un certo punto è emerso questo discorso se tu vai a guardare cerco di fare un ragionamento per capire da dove nasce anche questa cosa qua questo rapporto malato con l'umorismo cinico il sarcasmo che è diventato interpretazione dell'intera realtà secondo me nasce dal fatto che nasce è molto difficile però uno degli elementi che io sento molto è il fatto che la scuola durante la giovane età ti abitua a pensare che le uniche cose che valgono sono quelle serie pensa soltanto al romanzo pensa soltanto a cosa ci fanno leggere durante il percorso scolastico ci fanno leggere soltanto le cose che sono intellettualmente di formazione tutti gli autori che trattano di umorismo satire vi dicendo vengono totalmente eliminati e noi culturalmente questa è una cosa che sembra una contraddizione ma non lo è culturalmente se vai in una libreria le cose umoristiche tanto quelle elevatamente umoristiche quando quelle di umorismo basso sono sempre relegate in scaffali molto lontani molto lontani perché un po' ci vergogniamo questa vergogna dell'umorismo che in realtà avrebbe un ruolo nella società cioè la satira ha un ruolo nella società l'umorismo ha un ruolo nella società la comedia ha un ruolo nella società essendo relegata perché quasi ce ne vergogniamo si è trasformata in questo cinismo è una risposta al fatto che noi veniamo cresciuti con un'idea molto paternalista del devi trattare le cose con serietà e quando poi maturiamo ce ne sbattiamo della serietà viene in mente hai presente Calvino cioè io Calvino è un autore che io adoro Calvino lo amo è straordinario cos'è che si legge di Calvino durante il periodo scolastico i sentieri dei nidi di ragno che fra gli scritti di Calvino mi spiace per chi lo ama però è il più palloso e secondo me anche il meno bello sotto ogni punto di vista però guarda caso è lo scritto lo scritto intellettuale lo scritto di formazione realista neorealista e vi dicendo le cosmi comiche che è un'opera straordinaria divertente che ti apre la mente che sarebbe proprio da far leggere a 14 15 anni non viene neanche preso in considerazione sai che sono d'accordo proprio su Calvino il mito le sei lezioni che fece Ara sono belle ma le cose che lo resero come dire celebre in un certo mondo che volevano fare i sofisticati o la combinatoria il mistero il gioco di parole a me sono sembrate delle cagate di seconda mano mentre sono d'accordo il Luis Conte di Mezzato come si chiama quello sugli alberi il marchese sugli alberi il barone sugli alberi il barone rampante il barone rampante li ho trovati gioiosi creativi anche le città invisibili le città invisibili e anche le città invisibili esattamente capito bravo mi hai liberato perché invece il sentiero dei nidi di ragno una notte d'inverno un viaggiatore mi ricordo lo comprai con grande ansia appena è uscito lo lei si dice ma che sto è tutto ovvio dal primo momento e se per quello queste cose qua Borges le ha fatte prima è molto meglio è vero è vero è vero è una versione ebulcorata di Borges che poteva anche evitarsela vabbè ma non importa per carità ognuno c'è la sua ho usato la ecco il drink che scrive che dicono peste e corna di Calvino come se loro fossero dei grandi io adoro Calvino io ci ho fatto anche ci ho fatto anche dei video ci ho fatto un sacco di roba io lo adoro Calvino però c'è un rovesciamento c'è un rovesciamento tu nell'età in cui dovresti valorizzare la fantasia e quindi la narrazione e anche l'umorismo come strumento viene messo di fronte soltanto alle cose seriose perché devi crescere devi diventare un uomo devi fare questo e quindi devi fare l'intellettualmente preparato e via dicendo a lungo andare questa roba qua ti rovescia e quando poi diventi maturo usa il sarcasmo solo il sarcasmo siamo una civiltà che ha rovesciato il rapporto fra umorismo e realismo in un modo drammatico al punto che e concludo il ragionamento oggi i giornalisti fanno i narratori e i narratori fanno i giornalisti cazzo ci abbiamo i giornalisti che scrivono roba fantasy e ci abbiamo baricco che scrive the game baricco dovrebbe scrivere setta porca puttana quei libri dovrebbero scrivere no the game the game bisogna lasciarlo invece a un saggista vabbè con tutto il rispetto poi ripeto è anche un libro che ha alcuni spunti interessanti però si è rovesciato il rapporto Michele il rapporto fra realtà e fantasia chi dovrebbe analizzare le realtà usa la fantasia e chi dovrebbe usare la fantasia invece si mette in testa di analizzare le realtà e questa roba qua si vede nel giornalismo in modo dirompente è divertente perché ne abbiamo dette di tutte stasera abbiamo attraversato mari e monti io volevo portarti alla ragioncini che siamo finiti a parlare dei giornalisti siamo partiti dei giornalisti abbiamo fatto full circle e tutti diranno che due chiacchieroni in realtà sai qual è il problema che anche questo adesso si arrabbia ci faccio arrabbiare anche questo tuo formato molto di successo è un po' mutuato dal talk show cioè abbiamo mezz'ora e parliamo di cose seri è vero che siamo in due non ci interrompiamo io qualche volta ti interrompo perché sono più vecchiotto quindi ho meno continenza ho incontinenza verbale però bisognerebbe andare avanti due ore e venti e vieni qua agli studios ma no sto scherzando ah perché quando fai fai le cose alle due ore e venti eh sì no guarda ti dico di solito quando faccio il collegamento dura sempre qualcosa di meno semplicemente perché ma anche perché è proprio difficile sostenere troppo a lungo vieni qua adesso vi godete adesso vi godete in live come potete fare le trattative da che ora a che ora registri? quando vuoi che c'è un bel posto dove gli fanno delle belle costate ti porto dove fanno delle belle costate un buon 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 però sì 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 ora se registriamo metti dai undese a un botto un botto e mezzo dopo è un buon ti propongo di meglio ti propongo di andare a pranzo no fare fare un chilo di costata tu mi vedi lì fare pranzo dopo ci facciamo qua gli studios ti puoi mettere qua a lavorare abbiamo un divano dove anche fare la pennichella se vuoi tranquillamente e dopo un po' più tardi quando c'è un po' di pubblico cacchio perché mi fai la diretta alle undici becchiamo undici persone ah perché alle undici ma tanto sono tutti chiusi a casa no 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 facciamolo 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 dopo ci mettiamo d'accordo dopo ci mettiamo d'accordo state a casa state a casa tutto bene va bene dai è vero oggi ci ci insulteranno un sacco perché abbiamo spaziato abbiamo urtato sensibilità e va bene così oh ragazzi c'è il senso No, è un po' di antropologia italica, queste sono tutte caratteristiche antropologiche del popolo italiano, che non vuol dire che non accadano cose del genere in altri paesi, è che non accadono né con questa frequenza, ma neanche lontanamente, e non gli si dà questa importanza, mentre qua gliela si dà. Ed è, ecco, a me la cosa che forse concettualmente interessa è realizzare sempre di più, che c'è questa cosa divertente, che se non hai un minimo di, dovremmo dibatterlo. Quando il soggetto umano viola l'ipotesi di lavoro del mio amico Mansur Olson, e cioè decide che esiste un valore ideale, per cui lui paga un prezzo, e il pagare il prezzo è letteralmente per un bene collettivo, la democrazia, la riduzione delle tasse, la riduzione della corruzione, chiamalo come vuoi tu, può essere tante cose. In quel momento, costui è un illuso? Interessante questo, molto interessante questo quesito. Lo affrontiamo? Lo affrontiamo quando vieni qua di persona? Io ultimamente me ne sto occupando, glielo ho posto anche a Gerardo questo problema l'altro giorno, mi sono messo, ho riletto Le Bon, e mi sono andato a rileggere l'opposto di Le Bon, che per chi non conosce, nell'uno e nell'altro è la tesi di PhD di Mansur Olson, un uomo morto troppo presto. No, sarà, scusami, il contrario di Le Bon è Le Mauvese. Chi? Le Bon, Le Mauvese. Eh vabbè Michele, me l'hai servita su un piatto d'argento. Ho ragione, comunque per chi interessa cercate, credo sia tradotto in italiano, la logica dell'azione collettiva di un signore che era in realtà nato in America, ma era di origini scandinave, credo, quindi il suo nome è Olson, Olson è il cognome, è il primo nome Mancur, però si pronuncia Mancur, mi diceva lui. Ok. E lui ha questa idea che l'azione collettiva avviene solo per ragioni sprettamente razionali, ciniche, in modo totalmente dovuto a incentivi. Mentre in realtà non è vero, però non è vero. È interessante, questo è un topic interessante, guarda che questo lo approfondiamo. Non è vero, guarda una delle letture di questi giorni, molto divertente, mi sto rifacendo una cultura narrativa sul crollo del Regno delle Due Sicilie, ce l'ho proprio qua perché mi sta a dire il terzo libro che leggo sull'argomento, brigantaggio. Insomma, gli anni nel Regno delle Due Sicilie, inizio a Borbonico, tra il 1860 e il 1900. E quando ti leggi così anche i dettagli narrativi di questi dei mille, è veramente difficile spiegare i mille con le teorie di Mancur Olson. Interessante, interessante questo. Erano tutti degli illusi, non ci hanno mai letto. Io non ho letto questo libro, quindi dovrei... Ah no, questo è il quale, questo qua che ti ho mostrato. Sì, 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 sì. Ah, vabbè, ma è una storiella, una fra le tante, che ti racconta che fondamentalmente il Regno delle Due Sicilie è venuto giù per caso, questi i mille erano una banda di sfigati per davvero molti illusi, avrebbero rischiato di far la fine di tutti quelli precedenti, non fosse stato per il livello di inettitudine, corruzione, falsità, smollamento etico dell'intero apparato borbonico. Ok, ok. Sì, questo non possiamo prendere stasera, perché sennò finiamo dopo. No, no, basta, finire. Non ne parliamo. Allora, per chi è in live, non andatevene, rispondiamo a qualche domanda adesso. Chi è indifferita, sapete cosa fare, dovete condividere, lanciare il video dappertutto, il podcast dappertutto, e poi insomma seguirci un po' in tutti i social. Quindi, grazie Mike per la chiacchierata, e Mansur, o non Mansur, non è tutto noia, ciò che è, è razionalmente comprensibile. Non è tutto noia ciò che pensa, ma avevo spento, perché pensavo facessi tutta una prolusione finale. No, siamo andati lunghissimi, ma quale prolusione finale? Quale? Ciao a tutti, ciao, 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 ciao.